L'affronto di Camilla da parte della regina è stata una grande delusione per il principe Carlo nel giorno del suo matrimonio, ha affermato lo storico Pierce Brandon in un documentario, il monarca, 95 anni, si è riposato nelle ultime settimane su consiglio dei medici. Si è tirata fuori da una serie di eventi dopo il suo primo pernottamento in ospedale per otto anni e non era presente al servizio di deposizione delle corone. Del giorno della memoria al cenotafio di Londra a causa di una distorsione alla schiena. Il principe Carlo ha deposto una corona di fiori a nome della regina e nelle ultime settimane ha rappresentato sua madre in altre occasioni, il principe di Galles è appena volato alle Barbados per tenere un discorso durante una cerimonia per rimuovere la regina dal ruolo di capo di stato della nazione caraibica. . Questo segue il suo tour in Medio Oriente con sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia. Camilla è una delle reali più affidabili, ritagliandosi un ruolo sempre più centrale all'interno dello studio. Tuttavia, la duchessa ha avuto un inizio molto difficile, avendo prima colpito i titoli dei titoli per la sua relazione con Charles mentre erano entrambi ancora sposati con altre persone, Charles con la principessa. Diana e Camilla con Andrew Parker Bowles. Entrambi alla fine divorziarono e nel tempo la loro relazione divenne ufficiale, alla fine si sono sposati con una cerimonia civile nel 2005. Tuttavia, la regina ha rifiutato di partecipare alla cerimonia in un affronto che avrebbe causato grande delusione per suo figlio, secondo lo storico Pierce Brandon. L'autore storico è stato intervistato per il documentario del 2018. The Royal Weave of Windsor su Netflix. Ha affermato che Charles ha preso male il fatto che la regina non fosse presente al suo matrimonio con Camilla. Si diceva che l'assenza di sua maestà alle nozze fosse dovuta alla rottura dei precedenti matrimoni di Carlo e Camilla, il signor Brandon ha dichiarato, per il semplice motivo che erano entrambi divorziati, la regina non ha effettivamente partecipato, ha partecipato alla benedizione in seguito. E penso che questo sia stato probabilmente motivo di grande delusione per Charles.